Rizzo, yeah, hai presente o roba figa Rizzo, come il mio cazzo se c'è la mia tipa Yeah, che cosa posso dirti, sono fresco Vuoi farmi la rap reaction, reagisci a questo E poi di nuovo il mondo marcia appunto Penso che era parecchio alto, molto alto Alto alto? Tanto alto, tipo il doppio, sì Io ero lì così che stavo morendo Allora al tutto punto si è improvvisato youtuber Mi ha preso la mia camera Per pietà Sì, per pietà Ha preso la telecamera, ti ha ripreso lui Sì, ha fatto lui le domande E' l'ultimo che faceva le domande E' stato una cosa surreale come situazione E' la rasa Sì, veramente la bella persona Come l'ha visto? Tutto a posto Che succede stasera? Che succede? Siamo qui, all'Arca, trazzo Questo concerto è subiasatissimo Ti giuro, riprenderti è una tortura per me Se altri tipi fa il doppio di me Ecco, bravo Questa è una la sua reaction Com'è? Com'è? Com'è a fare la mia? Che bella che sia Senti, ma dimmi, com'è che è andata sta roba della rap reaction? Beh, in realtà ho cercato di coniugare due mie passioni video e il rap E niente Diciamo che ha funzionato Hai visto che ti seguo fin da ragazzo? Ho iniziato a scontare il rap per te Ho visto, ci ho visto Questo signore qua ha fatto un po' di situazioni con i video che sono usciti Cosa hai fatto? Hai fatto un altro giorno? Ho fatto tutto l'album Hai fatto tutto l'album Ha fatto un po' di spazio del marcio Ha lavorato un sacco e l'ha lavorato molto bene Quindi Anche grazie a quel video che ho conosciuto Nico Ah, ok E poi c'era il spazio dal mondo record Quindi c'è il computer Tenga dottore Grazie Questo qua è uno bravo È uno bravo È bravo lui